Ben ritrovati, ben ritrovati, consueto appuntamento con gli approfondimenti di Sette in Punto. Questa mattina parliamo di salute, lo facciamo da un particolare punto di vista, andiamo subito a salutare il nostro ospite di essere con noi, si tratta di Bruno Azena che è dell'unità operativa Centro Grandi Ustioni Chirurgia Estetica dell'azienda ospedaliera di Padova. Buongiorno a lei dottor Azena. Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie di essere con noi, senta la provochiamo subito con il titolo, noi abbiamo voluto intitolare questa trasmissione danni non sempre irreparabili, nel senso che ormai la tecnologia, i livelli a cui è arrivata la medicina ci consentono di esprimere soddisfazione per quello che può essere un'attività, chiamiamola riparatoria, in caso di danni molto gravi. Lei dirà c'è caso e caso, ma a un certo punto io prendo sempre come riferimento Niki Lauda, il famoso incidente che gli bruciò praticamente il viso, la ricostruzione di allora è tuttora visibile in Lauda, perlomeno finché è stato in vita. Quindi adesso si è arrivati a un livello per cui le persone che hanno subito dei grandi traumi possono in qualche modo ridurre le conseguenze di questo. Sì, sicuramente nel campo della chirurgia plastica ed estetica, nella chirurgia morfologica, ricostituire una forma dopo che è stata alterata da un trauma, un trauma grave come quello che ha citato lei, per esempio l'ustione di Lauda, oggi è più facile. È anche vero che l'uomo non avendo nella scala animale capacità rigenerative, fa fatica e il chirurgo fa fatica a farlo ritornare come prima del trauma. Cioè quello che è leso porta sempre in sé i segni di una cicatrice. È anche vero che molto si può fare per ricostituire appunto una forma che è stata lesa e per fortuna questo oggi lo vediamo. Così come la chirurgia plastica nella branca ricostruttiva della chirurgia plastica che riesce a ricostituire una forma lesa o alterata può anche e riesce anche a restituire delle funzioni in quelle che sono non solo forma, stiamo parlando degli arti, restituire la funzione attraverso degli interventi ricostruttivi complessi. Il dottor Aziena diceva giustamente non abbiamo noi come umani la capacità rigenerativa, adesso le citiamo un esempio forse brutale ma la lucertola per esempio con la famosa coda che si rigenera è logico che è un organismo animale che ha queste capacità, l'uomo non le ha e dunque sono delle difficoltà ulteriori per chi si trova come lei ad affrontare determinate situazioni. Sì, noi oggi fortunatamente entriamo in un'epoca che conosce molto di più sulla capacità di guarigione dell'uomo e entriamo in quella che vorremmo diventasse a pieno titolo l'epoca della, stiamo parlando di chirurgia, quindi della chirurgia rigenerativa cioè quella chirurgia che lavorando gomito a gomito con la ricerca, con il laboratorio dalle cellule riesca a ottenere dei tessuti che siano uguali a quelli il più possibile uguali a quelli che abbiamo dalla nascita, che siano tessuti o organi. Quindi nella chirurgia rigenerativa oggi può fare molto agli effetti della ricostruzione considerato appunto la capacità di utilizzare delle cellule, le cosiddette cellule staminali, quindi per riempire dei volumi laddove sono stati persi oppure per ricreare della pelle che è un vero e proprio organo o quello che vediamo più banalmente tutti i giorni, insomma, modificare e correggere i segni per esempio dell'invecchiamento che comunque sono una degenerazione dei tessuti e degli organi e quindi attraverso una terapia cellulare mi consenta questo termine, ritornare più giovani anche se poi non sempre è così, ritornare funzionali nel caso degli organi e per quanto riguarda l'aspetto sicuramente un aspetto più giovanile. Certo. Dottor Aziena, noi purtroppo, insomma, per ragioni professionali quasi quotidianamente, perlomeno uno o due volte alla settimana da un po' di tempo riferiamo di casi di incidenti al lavoro, addirittura tante volte di decessi al lavoro. Lei ha notato, soprattutto in questi ultimi anni, un incremento magari di casi di persone con conseguenze relative ad incidenti al lavoro, pensiamo a persone con ustioni in particolare, ma anche con lesioni tali per cui si è reso necessario il vostro intervento o diciamo non è così importante il dato? No, il dato purtroppo dell'incidente sul lavoro è ancora molto importante, è un problema che si deve assolutamente risolvere e significa investire sempre maggiormente non sul fatto di poterle curare, ma investire sulla sicurezza, sulla sicurezza, esattamente. Quindi non tanto sulla medicina in questo settore, ma sulla prevenzione degli incidenti, anche perché gli incidenti in questi casi qui, cioè quando arrivano a noi, chi sopravvive generalmente ha delle lesioni, se parliamo per esempio dei danni da ustione, delle lesioni permanenti, così come altri esempi di trauma, ma l'ustione di per sé è un trauma devastante, ne abbiamo recenti memorie e purtroppo qua l'impegno poi diventa estremamente costoso, oltre che per il paziente chiaramente, ma estremamente costoso per la società, perché sono cure ad altissimo costo, quindi è veramente importante spingere sulla prevenzione. Sì, questo crediamo che sia importante, significativo e crediamo anche che le aziende da questo punto di vista siano particolarmente sensibili, anche perché poi inevitabilmente, sappiamo che non è molto bella come conclusione, ci sono conseguenze anche per le aziende, ovviamente, sotto tanti punti di vista. Però effettivamente, diciamo, non è il primo professionista che ci ricorda che quelli che sono gli incidenti sul lavoro riflettono anche la necessità di una politica, proprio anche una educazione, anche dell'operatore stesso, della persona che lavora, a seguire determinate accortezze, determinati accorgimenti, insomma, per una cognizione del pericolo, che insomma non deve mai venire meno, ovviamente chi lavora, a determinati macchinari, chi, non so, sposta con carrelli, perché abbiamo sentito anche degli incidenti in cui veramente era il momento di distrazione, l'attimo, e magari una persona veniva travolta da un collega che magari stava, come ogni mattina, spostando magari dei pallet o merce con carrelli elevatori. Assolutamente sì, credo che sia così. È importante, chiaramente, la preparazione al lavoro. È importante avere, cioè non sottovalutare, chiaramente, da parte della persona che se c'è, per dire, un abbigliamento antinfortunistico, questo bisogna prenderlo in considerazione. Personalmente credo che ci siano anche condizioni molte volte di stress, che siano o lavorativo o portate dentro l'ambiente di lavoro, che molte volte possono anche fare la differenza, perché anche guardando molte volte così a livello quasi statistico, c'è un'incidenza nelle ore o di inizio lavoro o di fine lavoro, quindi anche agli estremi della settimana, almeno questa è un po' la sensazione che si ha anche nel nostro pronto soccorso, nell'accoglimento di questi pazienti. Quindi, ripeto, da questo punto di vista, un'attenzione. Chiaramente le condizioni di lavoro per la persona devono essere le migliori, ma insomma, qua almeno parliamo, da noi non credo che ci sia questo problema, però è facile che l'errore umano sia dovuto alla disattenzione per una stanchezza anche, che molte volte si porta dal di fuori dell'ambiente di lavoro. E diciamo che tante volte la distrazione fa parte di una sintomatologia legata anche al stress. La distrazione, sì, ma lì entriamo in quello che è inevitabile, la fatalità, cioè nessuno di noi può essere concentrato a mille, però, ripeto, in un ambiente che deve essere il più protetto possibile, credo che battendo su questi punti dovremmo riuscire a diminuire l'incidenza dei traumi sul lavoro. Noi approfittiamo della presenza del dottor Aziena, perché come giustamente sottolineava a poc'anzi il nostro gradito ospite, si parla di medicina ricostruttiva, si parla anche di medicina correttiva, lei ci parlava a poc'anzi, magari di segni dell'età che inevitabilmente si portano nel volto, nell'aspetto. Ecco che la chirurgia estetica diventa uno strumento anche di salute. La chirurgia estetica può diventare uno strumento di salute o può, al contrario, diventare una patologia, nel senso che oggi vediamo gli estremi. Sì, uno stato di salute psicologico, la condizione di salute per definizione anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità non è l'assenza di malattia, è la condizione di benessere. Quindi fondamentalmente è importante che la persona stia bene con se stessa e possa correggere per quelli che magari per altri non lo sono, ma che per lei possono essere degli inestetismi e abbia la possibilità di farlo. Quindi questa chirurgia offre anche questa possibilità. Lei sa bene, dottora Zena, che l'obiettivo che la sta riprendendo potrebbe essere indicato come il responsabile di un certo tipo di situazioni, perché soprattutto nel nostro ambito, l'ambito dell'immagine, ma più in generale in una civiltà come quella di oggi, dove l'immagine è tutto, dove i selfie che ci facciamo, Instagram, questo social che è basato tutto sulla fotografia e sull'immagine, ha giocato un ruolo importante anche per una cura, alle volte come dice lei stesso esasperata di quello che può essere la propria esteriorità. Fortunatamente, grazie al contributo di persone come voi professionisti e anche grazie al contributo di determinate trasmissioni, proprio ieri ne proponeva una alla RAI, in cui si spiega nel dettaglio qual è un intervento, per esempio, ad una persona di mezza età che possa avere dei segni, magari perché voglia correggere, voglia eliminare o perlomeno rendere meno appariscenti. Lì può esserci effettivamente una esigenza che viene magari dalla necessità, la pelle cascante, magari certe parti dove ci si sente un pochino a disagio, effettivamente anche per migliorare. Però la domanda è questa, dottore, ci perdoni la brutalità, diventa estremamente oneroso per la persona anche ricorrere a questo tipo di interventi? Diventa estremamente oneroso perché finora la chirurgia cosiddetta estetica con finalità solo ed esclusivamente estetica, ancora non è inclusa nei cosiddetti livelli essenziali di assistenza, cioè in quella assistenza che lo Stato deve garantire al cittadino, che sono molto ampi perché nel sistema sanitario nazionale italiano sono comprese tutta una serie di patologie o di alterazioni anche che possono essere riconosciute, anche quelle morfologiche. non tutte, non tutte sono riconosciute, per cui ci sono interventi che non, ecco, ancora per dire il riempimento delle rughe piuttosto che non sono erogate dal sistema sanitario nazionale e quindi come tali sono, dovrebbero essere, sono a carico del paziente. Dei beni voluttuari quasi. Sono dei beni voluttuari, ripeto, dipende da che cosa si intende, certo l'invecchiamento non necessariamente deve essere considerato uno stato di patologia e questo non lo è, per tale, ripeto, alcune correzioni delle alterazioni legate alla senescenza non sono incluse nei livelli essenziali di assistenza. Diverso è capire se, per dire, una ragazzina con un seno piccolo o un ragazzo con un seno femminile o un sovrappeso, una correzione di un sovrappeso, possano essere considerati in qualche maniera sono legati a una condizione di benessere, insomma, un aspetto morfologico che fa star male la persona e al di là del fatto che oggi la società richieda dei modelli sempre più belli, perfetti, poi ci sarebbe da discutere a quali modelli ci ispiriamo, ma insomma è importante l'accettazione della persona, quindi tutto quello che secondo me può essere fatto perché questa persona si accetti in qualche maniera, il sistema sanitario nazionale può contribuire ad aiutarla. Dottore, dicono un bravo chirurgo estetico, che mani d'oro, ma sentendo la sua esperienza ci viene da pensare anche da un punto di vista psicanalitico, ci passi il termine, è importante anche, diciamo, il vis-à-vis, il rapporto con il o la paziente, se lei, diciamo, visita una ragazza che dice guardi mi sento un seno piccolo, magari ha un seno che ha proporzionato la sua età, immagino che anche il suo lavoro sia quello, come dire, di ricondurre alla ragione la persona o il paziente o ci sbagliamo? No, succedono, questo è un aspetto molto particolare e molto complesso, nel senso che sì, appunto bisogna realmente capire qual è il disagio della persona, il vissuto della persona prima di sottoporla ad un intervento chirurgico. io dico sempre che laddove il chirurgo non solo non riesce a fare e quindi avere sempre questa consapevolezza, cioè di non pensare di avere il delirio di onnipotenza nel creare la bellezza, perché questo non esiste. Altra cosa è quello di capire qual è il limite e allora lì avere il coraggio di chiamare in aiuto un altro specialista che può essere lo psicologo o lo psichiatra in casi più complessi. Per cui in questo senso il concetto di multidisciplinarietà diventa fondamentale per il vostro lavoro? Beh, assolutamente. La chirurgia plastica è forse una delle chirurgie più trasversali in assoluto, perché lavora con tutti gli specialisti, sia con tutti gli specialisti chirurghi, sicuramente perché ha consentito nel tempo da quando si è sviluppata un'aggressione chirurgica più importante sia nella cura dei tumori, sia nella cura dei traumi e di altre patologie, perché è la possibilità di ricostituire, di ricostruire chiaramente da maggiori garanzie, maggiori sicurezza nella parte demolitiva. Quindi si lavora spesso in equip ed è una cosa molto bella e molto importante. Sì, crediamo. Il fatto anche di rappresentare una squadra crediamo che sia sempre una soddisfazione anche dal punto di vista dei risultati che questo lavoro di squadra può garantire. Le chiediamo, diciamo, nell'immaginario collettivo, come tante volte si dice, si associa la chirurgia estetica a un genere femminile. Non è proprio così? In questi ultimi anni ci sono anche molti uomini. Sì, ci sono anche molti uomini che la richiedono, sempre per le stesse motivazioni e l'accettazione del corpo. Lo vediamo di più, qui si vede di più nel cercare di emulare probabilmente dei modelli. E lì, anche lì, si rischia di arrivare poi nell'estremo. Sì, appunto. Dopo l'estremo, come diceva lei, il delirio di ogni potenza, dopo si rischia di capovolgere i ruoli e di avere la patologia da parte del professionista. Diventa il medico, il chirurgo, che insomma nel desiderio di realizzare questo ideale mette qualcosa di sé che non bisognerebbe che ci mettesse meglio, che metta il meglio di sé, nel senso proprio anche, come diceva lei, delle rassicurazioni, anche dell'analisi del vissuto del paziente stesso. Insomma, della complessità del quadro della persona che si ha di fronte. Beh, la chirurgia non cambia, che sia chirurgia plastica, che sia altri tipi di chirurgia, non cambia. Alla base ci deve essere chiaramente una formazione, c'è la tecnica, per cui quando uno fa un intervento applica delle tecniche. Quello che non può essere esclusivamente solo tecnica, perché ogni soggetto è differente, e quindi bisogna tener conto poi che quando si applica questa tecnica la guarigione di un paziente può essere diversa da quella dall'altra, quindi può essere una chirurgia particolarmente insidiosa, non trascurare che dietro, cioè c'è sempre un corpo che comunque reagisce con la guarigione agli atti chirurgici, alla chirurgia che si applica. Vogliamo dire, ci scusi l'espressione, ma non è invidiabile la sua professione, perché lei è esposto a tanti rischi. Di rischi sì, come tutti i chirurghi, il rischio maggiore che però uno deve accettare è quello del fallimento, perché purtroppo non sempre si riesce a guarire. Diciamo che siamo, tra virgolette, programmati per quello, cioè nasciamo per curare, ma non sempre riusciamo, curiamo, ma non sempre riusciamo a risolvere la patologia, la malattia, e quindi quello è chiaramente il problema maggiore, forse la frustrazione maggiore che può esserci per il chirurgo. Però, ripeto, come abbiamo detto prima, considerato che non possiamo considerarci come medici e come chirurghi onnipotenti, dobbiamo prendere in considerazione questo, cioè curare nell'ambito delle nostre possibilità, nell'ambito dei nostri mezzi e nell'ambito delle nostre conoscenze, tenendo conto che questo è il nostro obiettivo, quello di curare. Sa una cosa che mi aveva colpito, insomma, in questa trasmissione che le ricordavo, recentemente andata in onda, trasmessa dal lente televisivo pubblico, è la dichiarazione di una sua collega che diceva ci capitano sempre più spesso dei casi in cui la persona al termine dell'operazione, dell'intervento, non si vede così diversa da com'era prima, ma allora sorge il dubbio, se tu fai un intervento, non diciamo ricostruttivo, ma correttivo, ecco, non è che tu ti debba trovare con un'altra faccia o un'altra persona, ti trovi in una forma migliore, se ci permette il termine. Ma dipende dai punti di vista, forse la persona, il rischio è quello che si trovi talmente diversa da non riconoscerci. Appunto. Diciamo che qui è, torniamo... In un limite molto... C'è un limite molto sfumato, torniamo ad avere necessità del collega specialista che invocavo prima, perché la bellezza, stiamo parlando di bellezza, stiamo parlando di estetica, mi è sembrato abbiamo escluso la ricostruzione, almeno per il momento l'abbiamo messa da parte. L'intervento di chirurgia estetica corregge qualcosa che è assolutamente naturale, l'invecchiamento. Si ha una perdita di volumi in un punto, ma non è che il semplice ristabilire dei volumi possa dare l'immagine della bellezza o della giovinezza. La giovinezza è bella nella giovinezza, così come la vecchiaia. ha una sua bellezza nella vecchiaia, se parliamo per esempio del viso. Questa è la mia opinione, so che posso sembrare rettico da questo punto di vista, però il rispetto di quella che può essere la bellezza nella vecchiaia deve essere fatto. che poi la chirurgia possa correggere segni della vecchiaia che diventano particolarmente inestetici, questo va bene. Ma forse la cosa più importante è non riuscire, faccio un esempio un po' banale, ma non per la signora di 60 anni sembrare una ventenne, ma avere un volto armonioso di una signora di 60 anni. Le rughe possono essere anche armonia. Infatti, ci sono donne bellissime che hanno tutte le loro rughe, purtroppo se vuole c'è questa ribalta che può essere la televisione o il cinema, perché è logico che al giorno d'oggi, a vedere una Sofia Loren o una Jane Fonda, che sembrano delle signore trentenni, trentacinquenni, dopo con tutto il rispetto, loro magari lo hanno fatto anche con interventi graduali, perché poi ci si abitua. Poi ci si abitua, l'immagine mediatica abitua progressivamente a vederlo. bisogna stare attenti a non, nella volontà, nel tentativo di correggere, a non creare quello che in natura non esiste e che è quello che ogni tanto vediamo. Sì, ecco, questo è molto importante. Crediamo che con queste affermazioni il dottor Aziena abbia, come dire, chiuso un cerchio anche di tante situazioni, tanti dubbi, tante domande, che poi ognuno di noi può interpretare le situazioni, ci può essere anche l'uomo che vuole vedere sempre la sua donna bambolina di 20 anni, se magari la sua donna non ha più 50 anni, come diceva giustamente lei, a parte ci sono delle donne bellissime anche di 60 o 65 anni, ma questi sono pareri esclusivamente personali e ce ne scusiamo magari con il nostro ospite se portiamo un po' troppo il discorso fuori dal seminato. Noi siamo estremamente grati al nostro ospite, il dottor Bruno Aziena, direttore dell'unità operativa Centro Grandi Ustioni, chirurgia estetica dell'azienda ospedaliera di Padova, le auguriamo buon lavoro e a presto, dottore. Grazie, grazie dell'invito. Grazie al nostro ospite per essere stato con noi, grazie a voi per averci seguito, noi ci rivediamo come di consueto nelle prossime mattine con 7 in punto, buona giornata e arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.